Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Oggi vi parlo di un libro che è diventato a tutti gli effetti un caso letterario. Un libro che è stato tradotto in oltre 15 lingue, un libro che cita la quarta di copertina e ha venduto oltre 110.000 copie, quindi immaginate un po' di che cosa si tratta. È un libro molto particolare, devo dire. Un libro che è anche molto lontano dal genere di lettura che io di solito affronto, ma che mi aveva incuriosito da subito, dallo stesso istante in cui è stato pubblicato da questa casa editrice che, devo dire, si sta rivelando, come tante altre case editrici indipendenti, una casa editrice che mi incuriosisce e che sforna delle chicche davvero meravigliose. Si tratta dell'eredità delle De di Caterina Tuchkova e Edito Keller Edizioni. Una storia misteriosa, cita qua sotto una misteriosa storia dei Carpazzi Bianchi. È un libro che sta a metà tra la realtà e l'immaginazione, tra il romanzo e l'indagine etnografica. La storia ci viene raccontata dalla protagonista, che è Dora Idesova, ed è una ragazza che ha sempre vissuto nei Carpazzi Bianchi, più precisamente nella comunità di Zitkova. Dora ha un passato abbastanza travagliato e da subito ci racconta di lei bambina, di quando era davvero piccola e insieme al fratello, lei ha un fratello più piccolo che è nato con dei seri problemi a livello psicologico, un ragazzino molto particolare. Insieme al fratello, tornando a casa da una passeggiata, quando erano molto piccoli, Dora ritrova sua madre assassinata da un colpo d'accetta dal padre. Quindi l'apertura del libro è molto forte, molto cruenta, molto dura. Questi due bambini ovviamente si ritrovano ad essere soli, perché Dora perde in un sol momento sia la madre sia il padre che viene chiaramente arrestato e si ritrova a andare a vivere con la zia, la sorella della madre, che è la zia Surmena, una donna che Dora, dai suoi ricordi, perché appunto era molto piccola, ricorda essere una donna molto particolare, un personaggio sui generis. Era una di quelle donne che venivano chiamate De. Perché De? Perché erano una comunità di donne che avevano dei poteri, dei poteri di tipo curativo, cioè erano delle guaritrici e questi poteri se li tramandavano da madre in figlia, quindi riguardavano tutto il genere femminile appunto che viveva sui carpazzi bianchi. Dora però non ha ereditato alcun potere, né tantomeno ne ha mai esercitato la dottrina, la professione, perché nessuno gliel'ha mai insegnato. È solo una bambina, si ritrova a vivere con questa zia che lei vede esercitarsi con degli unguenti, con delle miscele particolari di erbe e è molto incuriosita chiaramente da ciò che la zia fa. Quello che la zia le affida come compito da subito è di recarsi in paese e andare a recuperare tutte le persone che arrivano da tutte le parti del mondo alla ricerca di queste idee, di queste guaritrici. Persone che hanno dei problemi sia a livello di salute sia a livello proprio d'animo, che hanno delle ferite d'animo e che avendo un po' perso la speranza nella medicina, nella guarigione, ricercano la loro cura in questo affidano la loro cura a quest'ultima speranza, ossia a queste idee, a queste guaritrici. Dora a quel punto diventerà un'ansiel, così viene chiamato, quindi una guida che recupererà queste persone che arrivano da tutte le parti, scendono appunto dagli autobus, dai pullman e li porterà a casa di questa zia surmena per poterli guarire, per poter far sì che entrino in contatto con questa dea, una delle tante idee, perché chiaramente sui carpazzi bianchi, come la zia surmena, tantissime altre donne esercitavano la stessa arte divinatoria. Dora cresce e negli anni 60, siamo in pieno regime comunista, la zia surmena viene arrestata di punto in bianco, perché accusata di aver praticato un aborto clandestino. A quel punto Dora, insieme al fratello, si ritrova di nuovo ad essere sola, viene divisa dal fratello e viene inserita all'interno di un istituto, di un orfanotrofio, in un istituto però differente appunto da quello del fratello, che sarà un istituto particolare destinato a chi ha problemi di tipo psichiatrico, appunto come il fratello. Dora si ritrova a crescere all'interno di questo istituto ed è il momento più terribile della sua vita, della sua crescita. E nello stesso tempo però in lei matura una fortissima idea, una fortissima voglia, un bisogno, una necessità, ossia quello di studiare, di laurearsi. Lei si laurea, studierà in particolar modo etnografia e una volta raggiunta la maggiorità appunto a 18 anni, lei si iscriverà appunto all'università, lascerà l'istituto dedicandosi così tanto agli studi, facendone anche una vera e propria tesi di laurea, per farsi da indagare, di andare a fondo delle origini di questa sua famiglia, ma non solo della sua famiglia, ma in generale le origini da cui è iniziato tutto riguardo la storia di queste idee dei Carpazzi Bianchi. Sarà così che Dora si recherà giornalmente all'interno degli archivi di Stato per cercare, per trovare dei file, dei documenti che riguardino la storia di queste idee e sarà in questa circostanza che Dora scoprirà tanti segreti che riguardano la sua famiglia, che riguardano la zia Surmena che sarà più e più volte citata all'interno di questi fascicoli, zia che nel frattempo è stata rinchiusa all'interno di un malincomio perché appunto ritenuta pazza e con la quale Dora, nonostante le numerose visite e domande che lei cercherà di farle per scoprire la verità, non otterrà granché da lei perché appunto sarà completamente la sua mente offuscata da tutto ciò che le è accaduto. Dora appunto come vi dicevo scoprirà dei segreti, vari segreti, la storia in generale che riguarderà queste idee dei Carpazzi Bianchi ma in particolar modo verrà fuori un segreto di cui non ha mai sentito parlare nessuna né sua zia né le altre zie né la sua stessa madre. Un segreto che riguarderà la sua stessa famiglia in prima persona che riguarda una maledizione è una maledizione che colpisce le donne della sua famiglia è una maledizione che la farà avere timore del suo futuro del suo destino di ciò che le riserva la vita. È un libro particolarissimo un libro che come vi dicevo si divide a metà tra indagine etnografica e romanzo romanzo storico anche thriller per certi aspetti è un libro ricco al suo interno di veri e propri documenti che vengono riportati ripresi dall'archivio di stato e inseriti all'interno del romanzo. Questo fa sì che la lettura sia piuttosto faticosa ma non per la sua scorrevolezza perché il tutto è molto fluido molto scorrevole ma il pensiero che gli avvenimenti che vengono narrati all'interno di questo libro siano reali siano avvenimenti realmente accaduti la persecuzione di queste donne trattate come se fossero davvero delle streghe ciò che hanno subito all'interno dei tribunali ciò che hanno subito in generale dal movimento dal regime comunista negli anni 60 è davvero terribile e fa sì che la lettura rallenti per forza di cosa perché ci sono dei passaggi molto duri è un romanzo che mi ha colpito mi ha colpito profondamente pur essendo molto lontano appunto dal genere che di solito a me piace leggere mi ha interessato moltissimo perché ha arricchito degli aspetti della mia cultura che erano assolutamente manchevoli cioè io non avevo idea della non sapevo l'esistenza della storia di queste donne che vivevano su questi carpazzi bianchi sulle arti divinatorie che è una vera e propria arte quella che loro si tramandavano da madre in figlia sui loro poteri che si basavano principalmente su avevano origine naturale erano donne che avevano la capacità di parlare col vento di calmare le tempeste donne che con dei chiamiamoli infusi intrui di erbe riuscivano a guarire l'anima il cuore delle persone oltre a guarire anche se è paradossale chiaramente dire questo guarire dei problemi tangibili reali che avevano nel corpo è un romanzo che vi consiglio tantissimo strutturato a più livelli ma nella sua complessità assolutamente fluido e che cattura il lettore nella totalità quindi è un romanzo che se non fosse per questo aspetto che io sono particolarmente sensibile a questa tipologia di storie e quindi facevo fatica ad andare avanti ma è un romanzo davvero che si legge tutto d'un fiato e che alla fine del libro ho capito perché è diventato un caso letterario e il perché è stato tradotto in così tante lingue perché è necessario appunto che venga conosciuto e che si tramandi il più possibile perché appunto è una storia che scava sulle origini appunto della vita di queste donne ma in generale è un pezzo di storia importante che va conosciuto niente è un libro che mi è piaciuto tantissimo come avrete capito che mi auguro che più persone possibili lo leggano anche perché sono molto curiosa ne ho sentito parlare poco devo dire su youtube quindi sono molto curiosa di sentire un vostro parere se lo leggerete fatemi sapere e niente un romanzo assolutamente promosso da parte mia con questo è tutto io vi mando un grosso bacione e vi rimando al prossimo video a presto ciao ciao